Ciao, sono Marco e nel video di oggi parleremo dell'add-on per Elementor Live Mesh Add-ons. Nei video precedenti che trovi suggeriti qua sopra, in parte e alcuni all'interno del mio canale, abbiamo iniziato un po' a esplorare quello che è il mondo di Elementor. Abbiamo infatti fatto una panoramica del sito di Elementor, abbiamo visto quali sono le future di Elementor, abbiamo visto la differenza tra Elementor in versione free e Elementor Pro, abbiamo visto quello che è il prezzo di Elementor Pro, abbiamo visto come funziona la community di Elementor, abbiamo visto anche come si può ottenere supporto per Elementor e negli ultimi video ci siamo un po' soffermati su quelli che sono gli add-on, quindi ulteriori plugin aggiuntivi che vanno ad aumentare ulteriormente quelle che sono le funzionalità, vanno a estendere le funzionalità di Elementor. Direi quindi di non perdere adesso altro tempo e andare a vedere l'add-on di oggi. Direttamente dal sito di Elementor nella sezione community add-on troviamo quelli che sono i più popolari add-on per Elementor. Parliamo quindi abbiamo detto oggi di Live Mesh Add-on, iniziamo subito col dire che questo add-on come tanti altri che abbiamo visto è un add-on che troviamo direttamente sulla directory ufficiale di WordPress, quindi in forma gratuita e ha una sua versione premium a pagamento con funzionalità maggiore. è un add-on che vanta di essere il più vecchio, quindi uno dei primi, probabilmente sono stati un po' pionieri per quanto riguarda gli add-on per Elementor, ha oltre 100.000 installazioni attive, infatti ha un versioning piuttosto movimentato, stiamo parlando di 6 major update che sono state effettuate e sembra essere anche questo apprezzato o comunque dagli utenti sulla base delle recensioni positive ottenute. Iniziamo subito col dire che questo add-on ci consente di avere a disposizione una collezione letteralmente di add-on per Elementor, quindi dei widget, delle sezioni, dei blocchi aggiuntivi, sempre per andare a personalizzare a ottenere sempre il massimo dal nostro sito e dal nostro Elementor. Abbiamo a disposizione una parte di demo che andrà a vedere immediatamente, così da vedere quali sono i lavori che ha fatto questa azienda con questo progetto. Abbiamo infatti appunto dei veri e propri elementi da poter utilizzare per aumentare le funzionalità di Elementor e costruire il sito dei nostri sogni fondamentalmente. Iniziamo con un post slider, quindi abbiamo gli articoli visibili in degli slider. Qua abbiamo diverse demo, diverse stilizzazioni. Vediamo qua che abbiamo lo slider con testo, col titolo e alcune informazioni, quindi le categorie, l'autore, la data e i commenti. Qua abbiamo più o meno la stessa cosa cambia quello che è lo stile, quindi magari abbiamo il quadrato bianco, il rettangolo bianco invece che nero. Qua abbiamo ancora un altro stile con le frecce in basso, a destra. Qua abbiamo l'immagine con a fianco il titolo e le frecce comunque sempre nella parte centrale. Ancora qui abbiamo un'altra versione, quindi qua sono tutte versioni presenti, tutte varie grafiche che possiamo utilizzare all'interno del nostro sito. Ancora un'altra versione che possiamo vedere, sono davvero davvero molto belle. Abbiamo anche una versione con le anteprime sotto, quindi non solo scorriamo, la foto, l'articolo corrente ha anche un arrow in basso per indicare che stiamo vedendo quello. Qua abbiamo ancora un'altra versione, sono tutte molto interessanti e molto belle da visualizzare. E qua abbiamo finito quello che è per esempio il post slider. Vediamo soltanto alcune, quelle che sono magari così un po' più interessanti o quelle che abbiamo visto anche in altri add-on in modo da avere tu un parametro, diciamo, diversi per poter confrontare gli add-on visti fino adesso all'interno dei miei video. Qua abbiamo appunto le gallerie che si ingrandiscono a click con effetti over dove abbiamo per esempio i testi, con anche i filtri naturalmente anche nella galleria precedente, l'abbiamo vista. Qua abbiamo altre image gallery, quindi diverse, davvero diverse possibilità di mostrare le nostre gallerie di immagini. Sempre tutte con, anche questa con il load more per esempio per caricare altre immagini. Abbiamo gallerie anche con pagination, anche queste molto molto interessanti per esempio. Altre con il carica ancora. Altre tipologie sempre di gallerie. Qua abbiamo il caricamento di altre foto con lo scroll, quindi mi aspetto esatto andando avanti. Abbiamo il caricamento di altre immagini. E qua abbiamo visto quelle che sono le gallerie. Qua abbiamo per esempio anche, disse che l'abbiamo visto anche in altri add-on, la griglia dei prodotti di WooCommerce. Come si può personalizzare, anche qua. Come è costruita, come possiamo caricare altri, per esempio altri prodotti con lo load more. Un'altra tipologia di griglia, quindi un'altra stilizzazione con invece il pagination. Qua abbiamo davvero da poterci sbizzarire, abbiamo Future, abbiamo Portfolio, abbiamo Slider di ogni tipo. Qua abbiamo per esempio anche i grafici, quindi i charts, la torta, con quelle che sono magari le nostre competenze. Con due stilizzazioni. Anche queste molto molto interessanti. Abbiamo le tab che abbiamo già visto anche in altri add-on. Poi sarai tu a scegliere quello che sarà più congeniale magari al tuo sito o che ti piace di più esteticamente parlando. Comunque qua abbiamo davvero la possibilità di sbizzarrirci con tab e con stili diversi. Qua ne abbiamo di ogni, veramente. Andiamo ancora avanti, abbiamo anche le tab a sinistra, abbiamo visto le tab di sopra, abbiamo visto le icone, abbiamo visto le tab con i testi. Sono davvero di tutto e di più. Abbiamo ancora anche questi che li abbiamo visti in un sacco di altri add-on, gli accordion, quindi anche qua abbiamo diverse stilizzazioni per quanto riguarda gli accordion. Ecco qua abbiamo l'accordion che si apre e chiude, diverse stilizzazioni sull'over, abbiamo un sacco di belli effetti. Quindi davvero abbiamo la possibilità di sbizzarrirci quanto vogliamo con questi widget, con questi, qua abbiamo degli accordion in stile magari un po' più minima. Abbiamo davvero, davvero tutto quello che ci può servire, abbiamo bottoni, abbiamo icone, abbiamo i services per magari spiegare, mostrare quelli che sono i servizi offerti di una determinata azienda per quale stiamo facendo il sito, abbiamo le FAQ, abbiamo di tutto e di più. Andiamo quindi a questo punto, inutile soffermarci su tutti quelli che sono i widget, lasciate vederli, arriviamo a quelli che sono i prezzi, che è la parte interessante. Abbiamo visto la versione gratuita, alcuni widget sono gratuiti, altri no. Abbiamo una differenza di piani per quanto riguarda le licenze, quindi abbiamo la licenza per singolo sito a 37 dollari in abbonamento annuale, la licenza per 5 siti a 69 dollari, sempre in abbonamento annuale e la licenza per 25 siti a 99 dollari annuali. Abbiamo compreso per ogni anno di abbonamento il supporto e gli aggiornamenti, possiamo anche scegliere, eventualmente come tanti di questi add-on abbiamo visto fare, di acquistare per sempre il nostro add-on, quindi con un pagamento lifetime, che è un pagamento una tantum, per esempio per l'agenza del singolo utilizzo a 99 dollari, pagamento una tantum e avremo per sempre supporto e aggiornamenti. Stesso discorso per quanto riguarda la licenza per 5 siti a 149 dollari one time, invece per 25 siti a 199 dollari. Direi che per quanto riguarda questo live mesh, quindi quest'altro ulteriore add-on, abbiamo visto un po' quelli che sono i widget interessanti, i blocchi interessanti che ci forniscono, abbiamo visto i prezzi, a questo punto lascio a te scegliere qual è l'add-on migliore per te. Direi che per quanto riguarda la live mesh per oggi è tutto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciamole scritte qua sotto nei commenti, così che magari posso darti una mano per quanto possibile. O se ancora stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo di Elementor, Wordpress, WooCommerce, temi, plugin e spulciando all'interno del mio canale, non hai trovato quello che cercavi, lasciamolo anche questo scritto qua sotto, così che magari io posso trovare qualche altro nuovo spunto, qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!